Ebbene sì ragazzi Allora un attimo devo alzare un po' il volume Ragazzi se mi vedete così perché sono un vero player Ah ma anche tu Domi c'hai quei babbo natali appesi al filo Io anche Il signor Mortisio quanti proler c'hai allora Un attimo e poi ti sto facendo ansiosa Ti invito A Iris Aspetta facciamo le amichevoli Mister Corbo Ma perché mi hai rifiutato Perché Ti sto invitando ma è da tre ore che mi rifiuti Perché mi stai rifiutando scusa Oddio no Devo fare una coppa No da 999 No Ma perché Ma aspettate No Raga non ci sto credendo 9999 Ma che sfiga Raga lasciate football Perché Raga Aspetta Raga lasciate Lasciate football perché almeno giochiamo il ricordo di Maradona Dai Ma cosa Mai ricordo Se morisse un Cioè Allora per lui In mezzo Allora se morirebbe Se morirebbe qualche tuo caro Cominci a ridere Non l'ho capito Non lo ricordi Comunque c'ho 1300 punti stellari GG per me Vediamo se c'è qualcosa Oh dai Che c'è Ok auguri Dai non posso scioppare niente perché Non mi dà le casse A spene No ma tu c'hai 27 brawler Io ce n'ho No io dico ad Andrea Comunque Vabbè dai Stramford brawler ce la perdiamo Perché io sono scarso Sono un pro player scarso Dai che con molti Io l'ultima volta che ho fatto football Però quando ancora si poteva fare l'autoball Io non posso fare l'autoball da solo Aspetta Perché mi hai ammassato Posso fare un trickshot Ti prego Dai ti prego No 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 Fermati Fermati Voglio fare un trickshot Partite serie Partite serie Dai voglio fare un trickshot Ma dobbiamo fare partite serie Dai E dai Dai no Eh Peccato che non si può fare l'autoball Già me lo sarei fatto per te Ah ok Carola Ciao Carola Salutate Carola Ma sei live Certo che sono in live Dov'è Che pensi No Raga questo è un trickshot Della madonna No 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 Dai ti prego Fammi fare un trickshot Contra Andrea Dai però ti prego Dai però ti prego Non ti prego Venti una partita Yupi cucu Yupi cucu Beato te Io lo sto perdendo contro Andrea Ragazzi non è giusto Spolliciate per una nuova live così Dai no ti prego E vabbè Dai ammazzami E che vuoi ammazzami Dai ammazza Ma fammi fare sto trickshot Ti prego Dai un semplice trickshot Oh Gigi caro L'ha trovato Piper e Bea In una mega cassa Da sette skips Mi sa eh Tira 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 Dai Eh Bello Evviva Ora io Ora io Tu ne hai già fatti due No dai No No Dai lo so Sono scarso Sono scarso No Sono più scarso Di chi Degli scarsi Lo scarso Degli scarsi Oh dai Ci mettiamo Dynamic E cominciamo a saltare Come dei pazzi Ok Carola Ti aspetto Metti campetto Stramford bro Allora metti Stram Ma se ti ho detto Campetto Campetto Sabbioso C'è Dai che Ti vorrei dire una cosa Dito che hai Vincito Vincito No Perché non hai Vincito 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 Mannaggia Dai fai Il trickshot Della madonna Dai Ora io Ora io Fermati Fermati Dai ti prego Dai ti prego Non ho ancora fatto un trickshot Non fa il pelle No dai ti prego Ti prego Oh Ti prego Fammi fare un trickshot Normale Un trickshot Normale Come tutti Dai ti prego Ora io Ora io Ora io Ora io Già tu ne hai fatti due Ma poi mi prendono Per scarso Ah non mi prego Bombone Sono veramente scarso Veramente però Non ci posso fare niente Un libro Oh Non ci credo Io io Ti prego Ti prego No dai ti prego Io No dai Veramente Ragazzi dai Non è giusto Spolliciate Perché Andrea Se ne deve andare Se ne deve andare Sto in live Vabbè ma sto in live Ma come poverino Si ha vinto Metti il campetto No Ok Eh ma io Devo stoppare La live Allora Come Dai Metti pronto Ames ma se mi batte in tre minuti Ames Fedi Non ti ho manco chillato Brole è scarsissimo Sì vabbè Ma se cosa dici Ma che dici Ma che dici Ma cosa dici Più forte di me Se gioco a Brawl Stars Se gioco a Brawl Stars E' più forte di me E vedi Mannaggia No No Te la paro Guarda Dai Mannaggia No ragazzi Non è giusto Vogliamo giustizia Per Galaxy Più più M M Va bene Caro I'm blue 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 Non mi dare Il copyright Blue Blue Giusto Perché Dai Dai Ti prego No scusa Carola Non ti devi scusare Sai Non serve Niente Scusarsi Tanto sei con Galaxy Dai ora io però Hai già fatto un gol Ti prego Dai Ma quale tranqui Se mi Mi stai ammazzando Guarda Pure fallito Giusto Giusto Caro Non ho Copietto No Che schifo Fatto Che schifo Fatto Dai Non è giusto No Non ci credo Non ci Non ci Credo Che poi Quel bombone Era veramente Schifo No dai Ti prego Ma perché Giusto Giusto Eh Vinci No No Carola Stai ferma Non uccidere Nessuno Non voglio Che va in carcere No 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 Solo Trinchot Solo Trinchot Che cos'era Ciao Emanuele Devo andare Un attimo Ragazzi Dirigete voi La live Mentre non ci sono No 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 Io ho detto a Domenico Di dirigere la live Al posto E che si fa ora No Dico Parlate 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 La vita è bella La vita è bella La nutella Quando c'è questo fatto del coronavirus è bella Anche la nutella è buona È bella Buona La nutella è bella Molto bella Ho giocato a Pro 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 Star Così cosa è a caso Andrei a ubriare Ho capito No 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 Del Stava entrando in Poco Duele Torna Che cosa Cominci Non posso Duele Torna Tra Ottanta Anni Giole Torna Giole Torna Giole Che Stava Messi Male Giole 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 No Giole 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 buongiorno le banane le banane obbligate le banane obbligate le banane obbligate puoi spiegamelo lo spiegherò appena sarei mi metterò già in più a caricare vabbè e ovviamente il palla non è porta dei nemici perchè la fisica di bruciarsi domenica posso trovare qualsiasi cosa e ci hanno vinto la partita ma che no ci hanno vinto la partita Krab mi puoi invitare? per favore cosa devo fare? amico e cosa idea? sono sorda vieni qua vieni qua grazie basta aiutami un po' ti consiglio di tamperare anche perchè se il lag è perfetto no non lato molto buono e felice 5 power up 6 6 8 8 8 9 si parte 9 10 via uccidiamo dai 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 grande con zio andrea come si fanno veramente le partite ho visto un bombardino siamo nemici brutti perchè è solo che uno tira le bombe e un altro tira il veleno quindi sono il mio fratello visto come si fa a vincere ora ho pure recuperato 10.000 e 8 eh si per arrivare a 11.000 ce ne vuole ma il mio obiettivo ormai era lo dei 10.000 poi gioco così per divertimento eh ragazzi sono tornato eh bene ragazzi sono tornato ciao allora ragazzi scusate se non vi ho letto eh 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 aspetta io sto controllando se si può fare controllo la chat dal tablet eh 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 che c'entra mhm povero energetic chissà che cosa no raga ma questo senza cioè veramente stai ti ha allora che cosa hai detto leander se si chiede più di 6 o 5 volte modo lo metto bravo Leander ti stimo ti stimo ti stimo Leander Leander ormai è il mio night pot ormai eh sì allora aspettate un attimo parlo con Leander allora Leander sei il mio night pot preferito sei il mio night pot preferito poi chissà chi è il mio prossimo night pot ok ragazzi allora dai metti pronto ragazzi chiamatela WWF il mio pigema da panda è troppo chic dai messo Brock ragazzi avete pensato perché non ci sono non c'è il pubblico perché purtroppo per il covid oh ma come ti ho ucciso ah Leander sei il mio night pot preferito ho i galaxy che c'è il gabibbo è il gabibbo che c'è ragazzi cantiamo ragazzi cantiamo bollettina piccolina celeste paco ragazzi allora siete pronti per la canzone che fa ballare i vostri cocoriti e quindi sì balliamo celeste paco ma ma tu aviz 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 capum marolangop ma follettina ci paco no 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 follettina infatti no celeste paco dai non vale dovevi fare il trickshot no ragazzi comunque anche eh tu ma tu puliva aviz 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 follettina piccola eh ah ah lo bellissimo chi ci rompe ancora ah nicchi nicchi dai basta le ande ah no dai fermati no mi devo mettere brock che trickshot non capisco cosa di ah no ho detto ma tu volevi la pizza la pizza la pizza con la con il pomodoro in coppa boh che cosa dici non lo capisco manco io sono siciliano e non lo capisco che sono siciliano e non lo capisco ma che cosa è siamo siciliani io io Emanuele Cristian Domenico e Andrea siamo tutti siciliani no no non è un costume è il mio pigiama chiamatela WWF perché il mio pigiama da panda è troppo chic chiamatela WWF perché il mio pigiama da panda è troppo chic quindi no dai ti prego io te lo stai facendo da solo no no non è siciliana Gabi non è siciliana Gabi no dai ti prego fammi fare un trickshot ti prego ti prego dai no dai ma lo fai apposta Leander non parlava a te ma parlava ad Andrea che da tre ore che mi spara missili eh caro Andrea caro Andrea caro amico ti scrivo ti prego ti prego uuuuuh dai no ti prego oh dai ti prego ti prego ti prego fammi fare un trickshot eh ti prego fammi fare un trickshot poi te lo faccio fare a te te prego ti prego dai ti prego Andrea non voglio dai il trickshot fa lì ma cosa ah perché l'ho ammazzato con 840 di kg sì no 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 oh dove l'ho beccato l'ho beccato l'ho beccato no 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 l'hai parata dai ora si sa che la vabbè dai che devi fare ma non puoi fare più trickshot ah no la cosa più brutta che possa essere successa nella vita no stavo laggando però Andrea sto mangiando il kebab con la verza auguri Leander Leander sta mangiando il kebab e io non lo so doppio dynamite comunque Leander mangia il kebab e io non lo so e auguri troppo però troppo Domenico puoi chiamare tua madre ah ok comunque chiamate la protezione animali perché il mio pigiama è troppo chic sì il panda no no per carità ah ok interruzione per Domi quindi quindi Leander non è marocchino non è marocchino Leander non è marocchino non è marocchino non è marocchino a no 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 fermo non è marocchino non è marocchino ma ma eh posso finire lì fermo fermo ti voglio dimostrare che non ho quello che lanciai paio tardi dai ti prego dai sono scarso non è vero ma se è vero dai è verissimo è verissimo come canale 5 dai ti prego fammi fare un trickshot già tu l'hai fatto Andrea già tu l'hai fatto un trickshot ora a me eh tocca a me no dai ti prego ti prego togiti togiti dai Andrea dai che trickshot di schifo no ma che schifo ma perché trickshot di schifo li faccio solo io più chi è le mie ah cosa cani no 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 sto laggando aspetta non so chi sei un non brawl stars non lo so quindi no non lo so chi sei un non brawl stars quindi No, mi dispiace Devi prima diventare uno della family Ti devi iscrivere E poi devi guardare tutti i nostri video Anzi, sto per fare un altro contest Che scade il 25 dicembre Affrettatevi a... Ah, ok, anche non... Quindi Tu già avrai Il mio brother preferito Non ne ho uno, sai? Ah, è comunque Aspetta Anc non Brawl Stars Aspetta un attimo Anc non Brawl Stars Avrai più possibilità di essere estratto al contest Se tu lasci ogni like a video Li guardi tutti, eccetera Dai, ti prego Sto stando fermo Ah Non lo so chi sei, però Se ti sei iscritto da un po', bene Bene, bene Dai, aspetta, sto laggando La mia connessione fa schifo Anc non Brawl Stars Devi partecipare al contest Perché estrarrò qualcuno per giocare con me Dai, aspetta Ti prego Eh, ti prego Dai, aspetta E' certo tu non mi hai fatto fare il trickshot Ora io Ora tu Eh, eh Se no Aspetta, sto laggando Dai, non è giusto E invece Nooo Ma sono un fallito Veramente Sono un fallito di prima categoria Dai, ma Aspetta Quanto è bello Brawl Stars Ci giochi anche tu Costi video Clickbait Non mi piace Ok, YouTube Ciao AcuroBS Aspetta No, no, no No, 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 no Me ne sto andando Veramente Ma cosa che ho? Mi lagga e tu mi fai dispetti Guarda quanto fa schifo la mia connessione No, io Io sono un unico Io, io Perché fa schifo Ah, no Io sono l'unico che lagga L'unico Dai, giochiamo Dai, aspetta Non facciamo Brawl Trafford Facciamo Stramford Brawl Anche quella è bellina Allora, ragazzi Dovete partecipare al contest Che scade il 25 dicembre Eh Però, ragazzi Se volete giocare con me Lasciate like E iscrivetevi E fate tutto Ma perché non ti c'è un canale? Chi? Ma che è una prova? Come tua madre non è una prova? Ma che è la tua madre? La chiami? Chiamala Ok, a curo BS Ok, a curo BS Tutti quanti Giocherete con me Se guarderete il codice Della Michevole Vabbè? Ditemi come vi chiamate in chat Va bene? Ciao Ciao il nuovo canale Fermo, voglio fare un trickshot No, no, no Sì, Anc, no Basta che guardate il codice Anc, oh Ok, a curo BS Ora basta che vedete il codice ed è entrato No, che attiviamo i bot Anc, no Non c'è bisogno Mannaggia però Eh Sì, però se ti metti contro un Dynamite Proprio Allora, il codice è EH Ok Ok, Anc, non Aspetta Lo metto in chat Il codice Comunque mia madre la devo seriamente chiamare Sì, sì Sì Ok Ok XRTN Ok, ok Acuro XRTN Y U 2 Aspetta Aspettiamo Ok No Andri, questa è la mia partita È un iscritto, Anjo Sì Aspettiamo Acura BS La, come si chiama Ah no Anc, non Brawl Stars Che c'è Leander? Cosa è successo? Levate un po' Di richieste Che mando Richestate Tutte e due Già ad Anjo L'ho mandata Che c'è Leander? Se vuoi Puoi entrare in squadra Sigeramente Per favore Asnow Se mi senti Levo un po' Di richieste D'amicizia Se te la faccio a te Mi chiamo noi due No Raga, facciamo Facciamo una cosa Tutti quanti Dynamike Sì Ma vieni I miei amici Parlano loro I miei amici Parlano loro Parlate voi ora Uuuh Ma è un pro Aruka BS È un pro Anto Ma perché non fai fare un canale YouTube con Andrea? Lei ti stanta Io lo vorrei fare Ma lei ti stanta No Ma non mi piace Che va No Lei ti stanta Lei ti stanta Che andiamo a porta No Guarda Antone Praticamente Il canale YouTube Funziona che tu fai un video Senza registrare la faccia Con dei programmi Che registrano lo schermo E tu li pubblichi su YouTube Tranquillamente No Senza la faccia Senza la faccia Basta che nella foto profilo Non metta la sua faccia Perché se no Quindi Cambia foto profilo No Ho messo la mia Agenda Bravo Bravo Ok Ma Aspen Quale era? Oggi lo faccio Ok Aspen Mi dispiace Leander Mi dispiace tantissimo Lei Cosa? Gli è morto il cane? No Non è morto Non gli è morto il cane Però Voleva arrivare a 25.000 E sta perdendo coppe Troppe coppe Dai ma siete tutti pronti Dai ho messo campetto Ho fatto tutti i loro ordini Ora E ci mancava E ci mancava Mi è tanto mi sto fare Mando coppe No Ansto manchi tu Per favore Evviva Sì Volpina Due contro due Uber contro due Suoi Iscriviti Stasera Andrea Crea un canale YouTube Andatelo a seguire Ti chiamerai Andri Ti chiamerai Andri Gamer 011 Come dici? Va bene In caso cercatelo Se non c'è Dentro mezz'ora No Era Era 25.000 coppe E ne ha perse Tipo 3.000 Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Leander Mi dispiace Leander Che hai perso 3.000 coppe Aspetta Mi dispiace Leander Che hai preso Dai ragazzi Mi dispiace Leander Che hai perso 3.000 coppe E ne avevi 25.000 Mi dispiace Tantissimo Ah Ma che vita brutta La vita è bella La vita è bella Eppure la Nutella Quello sicuro La Nutella sicuro La Nutella sicuro E buona Ah Ancone E Anzo Sono fortissimi Che Che Oh grazie Ed è convinto Pure mia madre È incredibile No In realtà L'ho convinta Io Non ho manco No vabbè Leander Allù Il nuovo Bruder Cromatico Allù E poi Io che non ho manco Un cromatico Io che non ho manco Un cromatico Eh Non ho manco Un cromatico Ma che puoi farcela Se abbiamo perso No 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 Annaggia Mettiamoci dei brawler forti Anno Accetta L'aggistizia Niente Anno Certo E Anzo Manco Maledita Oh Calma Ma lei Sta facendo Fratelli Sta calmo Non so Che è una vita Facile Come Se il dito Che ha perso Prendi la coppa E mi infiace Leander Leander Non so Lo posso Mettere E io Qual Brawler Dai Vi prego Va bene Dai Metti pronto Certo Che leggo Leander 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 Cerco Certo Che leggo Leggo Tutti Ah Ah Leander Ha anche tutti i brawler Sopra È al grado 30 Altro che hacker Questo è god È un god Allora ti prendi quello del cagnolino Va bene Oppure un cavallo e basta Il cavallo Come faccio a fare gol Se quelli sono più forti di me Gioca anche dal 2018 Leander Quindi è normale Ah va bene Eh certo Io a malapena Gioco dagli inizi Dell'estate mostruosa Ok Gol Bravo Dall'estate Dall'estate mostruosa La seconda stagione del Brawl Pass Nel frattempo metto anche un po' di musica Delle cuffie di Frank La Io mi stacco un attimo Dall'estate No Tu non puoi segnare Tu non puoi segnare Dai Ma cosa siamo? Cosa siamo? Eh certo Leander Da due anni Un attimo che mi stacco dallo schermo Perché sono finito Aspè mi sto staccando Mi sto staccando dallo schermo Perché sono finito Aspetta dai Sono stanco Aspè mi sto staccando dallo schermo Ha tipo 32 brawler No Leander Comunque Comunque Leander Comunque aspetta Leander Ha tipo 32 brawler Ma guarda guardate che lui Guardate che lui Guardate che Leander Leander non è un hacker È un god E' un god Mi c'è addirittura C'è addirittura Aspè No dai Anc no Non fai Non insultare Non insultare Ah ragazzi Devo andare Ciao 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 Grazie.